Ciao Fede, come stai? Da quanto tempo non ci vediamo in questo gioco? Santissimo, Steph, infatti... Dammi la tua mano... Collami, Steph, ti prendo a pugni... Steph, vattene... Vieni qua... Non voglio stare appiccicato a te, Steph! Vai via... Vieni... Tutto in acqua... Vieni che siamo all'estate, ci facciamo un bel bagnetto... Vai in acqua, affoga, Steph, affoga... Oh, cavolo... Oh, cavolo... Steph, smetti là, ci stai facendo un annega... Ok... Ci ha fatto morire... Ci ha fatto morire... Ecco qua, bravo, Steph... Tutto a posto... Ti sembra un bel modo di iniziare... Io sto bene, tu stai bene? No, sono triste... Sei triste? Sono triste... Aspetta, aspetta, aspetta... Ci penso io... Aspetta, anche così... No, aspetta, va a cadere... Come si danno i pugni, sto gioco? Perché non ti posso dare un bel ceffone? Accidenti... Annega, Fede... Ok, allora... Ok, sono pronta, siamo pronti... Smettiamola... Siamo tornati su Human Fall Flat... C'è un livello particolare che non abbiamo mai fatto... Che volevamo assolutamente fare... E quindi questo oggi siamo qua per provarlo... Se vi piace il gioco... Lasciate un sacco di like se supportate il video... E direi che possiamo iniziare... Allora, Fede, lo devo dire proprio semplice... Abbiamo una sorta di fiume con cascata... Ci sono vari tipi di imbarcazioni che tu puoi scegliere di provare... Ok... E praticamente è uno scivolo di cascata gigantesco... Bellissimo... Bello... E' super gigante... Partiamo con questa imbarcazione perché è la più vicina... Sì... Ma remare è un casino però... Come dovremmo remare? Aspettami... Aspetta, io prendo il remo di destra... Ok, ce l'ho... Ci sono... Ok, a posto... Ok... Come si dovrebbe muovere, Steph? Non lo so... Ok... Ci sono, eh... Lo sto facendo... Guarda come stiamo remando bene... Tu come fai a farlo così bene? Non lo sto facendo bene... Ok... Fede, mi sta avendo mal di mare... No, ce la sto facendo... Guardami, Steph... Ce la sto facendo... Ce la sto facendo... Dove dovremmo andare? Verso destra, credo... Ah... Esatto, così... Aspetta... Ok... E adesso come andiamo in avanti? Porca miseria... Mi potevi mettere un motore... Uno scafo... Beh, abbiamo scelto noi... Quella con i remi, eh... Amica... La data era va da sé, secondo te? Secondo me sì... E lì... Andiamo appena a... Vero... Andiamo... No, no, no... Non affogare, però... Ecco qua... Sei morta? Sì... Ma subito... Appena tocco l'acqua... E come facciamo a raggiungerla? Non lo so... Raggiungiamola con la barca... E poi la prendiamo, ok? Ma adesso la barca è mezza all'acqua, Fere... Che si fa? Non lo so... Aspetto... Sì... Ma non è che basta spammare spazio per tipo mezzo a nuotare? Sì, più o meno... No, no... Poi cade... Poi cade... Non affogare... Sei un salame... Va bene... Ok... Tutto a posto, Stefano... Abbiamo un problema, Fere, qua... Un problema enorme, sì... Allora, mi è venuta un'idea... Mollami, mollami... Ok... È colpa tua... Qual è la tua idea? Voglio andare dall'altra sponda... Ma non ce la fai neanche lì? Dai, perché? E se mi rompisco qua, invece... Tipo negli scogli... Faccio un salto... Quello che ho pensato anche io... Il problema è che noi non eravamo molto bravi ad arrampicarci in questo gioco... Opla... No, non basta... Basta... Allora... Riavvia il livello... Ok... A posto... Dobbiamo riuscire a rimare ed arrivare alla barca vela, ok? Alla zattera... È il nostro unico obiettivo... E poi c'è anche la barca quella a sei... Eh, lo so... Quella è bella... Quella è bella... Però pensiamo ad arrivare qua, Fere... Ok... Un passo alla volta... Allora... Uh, però l'ho spinta parecchio questa volta... Vai... Ma se io continuo così... Vai, ho trovato la soluzione... Ma affoghi... No, no, tranquilla... Sicuro? Mi sono un po' incastrato nel remo... Ok... Però ci abbiamo fatta... Aspetta, te lo sposto... Prendilo... Acchiappa... Porca mia... Aiuto... Acchiappa... Dai, pinguino... Ce la possiamo fare... Vai, credo di poter mollare... Sì... Ci sono... Io ci sono, Fere... Ok, arrivo... Mi raccomando, non affogare... Ok, no... Finché arriva va bene... Finché arriva va bene... Allora... Ok... Ah, vedi... Questa è la... Come si dice? Sì... Non so come si chiama... Elica... Forse è elica... Qui dietro... Non è un'elica... È tipo un timone... Quello che è, Steph... Uguale... Ti ho detto che non so come si chiama... Quindi non mi rompe... Ok... Ok... Voglio girare la vela, secondo me... Bisogna prima spingerla un po'... Perché siamo incastrati... Vedi? Ah... Aspetta, eh... È che poi vai troppo lontano... Mi fa negare... Eh, lo so... Attaccati già... Attaccati già per sicurezza... Attaccati... Ok... Ci hai fatta? Perché stiamo andando all'indietro? Non lo so... È colpa di Fere... Fere... Ci sono... Zorna su... Dai, non ce la fa, Steph... È un pollo, sto robo... Mi sa che ti devo abbandonare... Abbandonami... Ciao, Steph... No, Fere, dai, sali... Non ce la faccio... Sei troppo lontano, Steph... Non è vero... Non ce la faccio... Guarda adesso... Ok, ci riprovo... Stai affogando tu, però... Nada, vieni, vieni... Ok, sali... Perché non mi sale nei posti, Steph? Stiamo facendo affondare tutto... Ho notato... Perché non salta? Metti anche l'altra mano... Porca miseria... Steph, basta... Ecco qua... Ecco qua che abbiamo esagerato... E abbiamo riperso tutto... Ah... Come facciamo? È impossibile sta roba... Vabbè, ma tu sei particolarmente scarsa, però, eh... No, è sto gioco particolarmente difficile, Steph... No... Allora... Ma aspetta, è scomparsa la zattera... No, è dritta... Io la vedo... E da me non c'è più... Aspetta, va... Riavvia a livello... Ok, ora la vedo giusta... Tutto a posto, raga... Troppi riavvii qua che non erano previsti... Allora, per ora facciamo la tattica di prima che spingo... Arriviamo lì e devi riuscire a salire... Ma allora, io salgo e tu spingi... Perché poi non so risalire nei posti... Ok... A posto... Ecco qua... Forza... Adesso lo fermo... Prendo anche il remo... Questa è la tattica peggiore... Che io abbia mai visto... Per aggiungere qualcosa... Siamo bravissimi... Questa lasciamola anche a riva... Così nel caso possiamo riprendere questa... Se siamo messi male... Se non si sposta, certo... Ok... Allora, sali... Ok... Grazie... Ce la faremo a buttarci... Che è successo? Credo che sia colpa tua... Io ci vedo buggati in aria... Uniti... Cioè non si può più fare nulla... Ok... Ci vedo ancora buggati qua eh... È tipo rotto il gioco... Mi ha fatto un rumore strano... Come cavolo hai fatto? Fer ha rotto il gioco... Fer ha rotto il gioco... Aspetta... Aspetta... No ma io ve lo schermo nero... L'avevamo fatta... Mi deve prendere per mano... Ho capito... Tirarmi sulla zattera... E buggarmi... Era carino salire preso in ferro... No... Non dovevo salire anche io... Hai sbagliato e basta... Mettilo... Steph non è colpa mia... Se non possiamo salire presi per mano nei posti... Voglio fare una cosa carina... Stai zitta... Vai Steph... Nuota con quelle gambine... Nuota... Io lo so fare la difenza tua... Vai Steph... Sei fortissimo... Lo so... Di tutti noi Steph... Porca miseria... Porca... Ok... Dovresti fare il guidatore di barche Steph... Così però... Dovresti fare la guasta feste... Ah no lo fai già... Non faceva ridere a nessuno... Sì che faceva ridere... Era una battuta pessima... Cioè non... Non faceva ridere... Dove giocare senza audio... Consolini... Voi non sentite l'audio per colpa di fare... Nei commenti voglio robe brutte... Per colpa del gioco... Sali... Appenditi... Era difficile fare questa roba? Sì... Dai ci sono quasi a risalire... Vabbè posso stare anche così alla fine... Ferri riesci a schivare gli scogli? No... Dai ce la stai facendo? Non è vero... Lo stai facendo tu Steph... Ah sì? Io non sto facendo nulla... Davvero? Aspetta cerchiamo di andare... Sto affogando... Torna su... Vengilo... Torna su Steph... Ma poi non sa per prendere un timone... Ok ci sono... È un po' problematica sta situazione... Ok... Ma non è che riesci a venire a prendermi per mano... E tirarmi su... Sai farebbe comodo... Io sto andando Steph... Eh ma io su ci sono... Sono qua... Se mi acchiappi... Aspetta... Dai... Mi fai cadere in arco... Ti prego... Ecco qua... Sei un maledetto schifoso Steph... Adesso riportaci su... Riportaci su... Dai... Abbracciati su... Forza... Allora... Sei uno schifo... Molla la mano sinistra... No la... Quella era la destra... Ma non capisci nulla tu nella vita... Tu non capisci nulla... Ma perché mi dovevi dire... Prendimi... Prendimi... Rimani a farti di affari tuoi... No... Non mi devi rompere... Stava andando tutto così bene... Sali in questa barchetta... Stava andando tutto così bene... E non ho ancora l'audio per colpa tua... Sali nella barca... Muoviti... Qua c'ha il braccio storpio... Cosa stai facendo? Non lo so... Sei messo così... Allora... Via... Io non ti parlo più... Ma andiamo a prendere... No andiamo con la barca... Ah... Io voglio un molto scappo... Dai non possiamo neanche riuscire a non fare... Lo scivolo... Lo so... Lo so... Allora... Questa però va proprio bene... Quando la chiappo così eh... Cioè andiamo veloci... Funziona... Sì ma sta roba Steph è spiaggiato... No... Io l'ho già notata sta roba... Cioè come lo porto... No vabbè... Ha fatto tornare qua... Oh la metti... Mi ha fatto tornare qua... Non so perché... Devi riuscire a... Tirarlo in acqua... E poi venire a prendermi... No... E' tipo più impossibile... Della pace nel mondo... Quindi... La vedo grigia per... Allora devi acchiappare con due mani... E tirare... Non si muove... Aspetta ho capito... Cosa hai capito? Devo prendere questo... No vabbè la fine... Ecco qua... Stai vedi? No... Guardami Steph dall'altra parte... No ragazzi non ce la possiamo fare... Non ce la... E' impossibile che Ferra riesca a fare questa cosa... Io faccio la direzione di così... E tu remi... Ok vai... Forza... E io sono ancora senza soli... Per colpa tua... Andiamo... Perché? Perché devo giocare a questi giochi? Già sono giochi brutti... Con Ferre diventano insopportabili... E non capisco perché devo farlo... Non capisco... E' più avanti... Dopo che se vuoi... Secondo me qua c'è una discesona... Se non c'è ti uccido Steph... Beh mi auto uccido... Giuro... Ma sei sicuro? Io non vedo niente qua... Perché stiamo andando di qua? Non lo so... Io andrei dove c'è il faro... No... Pronta? No... Secondo me... Non c'è nulla... Vedi? Dopo questa bova... Vedi che non vedi più altro? Sì... C'è per forza qualcosa... Dai non ci credo... Per forza... Ah... Vai... Ce lo stiamo facendo... Difficilissimo... Sei pronta? Sì... Quanto mancherà? Dieci secondi? Boh... Sì... Ok... 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 Dai... Ok... Non le posso più dire male... C'è la fine della mappa Steph... Abbiamo perso l'unico... L'unico mezzo che sapevamo guidare Steph... Qua sotto altri video... No... 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 Io sono molto triste... Sto lontano da Fere... Fere... Sei molto minacciosa con quel costume... Stami lontano... No... Ti affogo Steph... Non è colpa mia... Devo affogarsi... Non sapevo dov'era... Qua sotto altri video... Lasciate un sacco di like per questo video... Davvero divertente e felice per noi... Speriamo che vi siete divertiti... Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto... Cliccate anche un bellino... Ci vediamo in un prossimo video... Ciao!